Ciao, prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. Nikita Pelizzone è stata la protagonista indiscussa della settima edizione del GFVIP. La sua avventura nella casa è stata ricca di emozioni, conflitti e sorprese. La confessione scioccante di Nikita durante un'intervista esclusiva al programma Radio Turchesando. Nikita ha fatto una rivelazione sconvolgente. Ammette di aver avuto una visione in meditazione in cui le veniva detto che avrebbe vinto il GFVIP. Nikita ha affrontato numerose nomination e scontri con i suoi compagni di gioco. Grazie al suo percorso interiore e alla sua capacità di gestire le emozioni, è riuscita a superare tutte le difficoltà. Sentiremo direttamente da lei come ha fatto a rimanere forte e determinata fino alla fine. Nikita ha trionfato nella finale, sconfiggendo Oriana Marzoli, che era molto amata dai fan. Scopriremo come si è sentita Nikita dopo la sua vittoria e cosa pensa del suo esercito di fan, gli Angels punto il gesto di generosità di Nikita. Dopo la sua vittoria al GFVIP, Nikita ha preso una decisione sorprendente. Ha scelto di donare i soldi del premio a un'associazione per l'ambiente. Questo gesto ha emozionato i fan e dimostra l'anima generosa di Nikita. Approfondiremo questa scelta e scopriremo come ha reagito il pubblico punto i fan di Nikita hanno dimostrato di essere orgogliosi del gesto della loro beniamina. Esploreremo le reazioni dei fan sui social media e vedremo come Nikita ha commentato l'amore e il sostegno che riceve dai suoi Angels punto e così si conclude il nostro video sulla rivelazione shock di Nikita Pelazin e il suo gesto emozionante dopo la vittoria al GFVIP